Un convegno per persone del settore, un convegno che però parla di memoria, di trasmissione della memoria e di futuro anche alla luce dei cambiamenti che ci sono. La Diocesi di Verona ha accolto questo convegno? D'accordo che ha accolto questo convegno perché è interessata, oltretutto perché stiamo facendo l'indagine su tutti i nostri archivi parrocchiali. Quindi un impegno molto forte, è la prima Diocesi di tutta l'Italia. Bene, io dico, questo non è un convegno soltanto per specialistici, ma un convegno dovrebbe sollecitare le scuole, quando per esempio presentano la storia, una storia sempre fondata sugli archivi, non può essere inventata. E quindi aiutare anche le nuove generazioni ad interessarsi del valore degli archivi come memoria storica oggettiva, su cui ci si deve fondare per creare la storiografia. Altrimenti diventa ideologia, inevitabilmente. Quindi questo è un convegno che non può interessare soltanto persone specializzate, ma interessare anche le nuove generazioni.